per tutti i ragazzi che ci sono. Niente di che, magari rubano una radio o una roba di questo genere, però pur di stare lì, riflettiamo anche su quanto siamo fortunati noi nelle nostre vite, nelle nostre situazioni, eccetera. Comunque, sono anche delle belle lippe, perché uno a un certo momento, perché poi appunto tu rompi il ghiaccio e poi cominciano le domande, allora uno salta su e gli dice Posso fare una domanda a questo signore? Sì. Lei ha scritto i libri sui taccini minori, no? Sì. Lei ha parlato con i ragazzi in Inghilterra che sono in carcere. Sì, sì. Beh, insomma, ne ha venduti di libri. Beh, insomma, qualcuno. Ma quanti ne ha venduti di libri? Per esempio, di questo libro, quante coppie ha venduto? Lui dice, ma che questo libro non avrà venduto 100.000 coppie, insomma. Ma quanto guadagna per ogni coppia dei libri? Cioè, ma la presa è proprio alla larga, eh? Tappetti, cos'è arrivato a dire? Cioè, ma quanto guadagna per ogni coppia dei libri? Due euro, tre euro, non lo so. Tre per centomila? Ma glieli ha dati i soldi a quelli che gli hanno dato le informazioni? Che non è banale. Non so in quanti licei le persone avrebbero, i ragazzi, sarebbero stati così acuti da fare una domanda di questo genere. E lui è rimasto, poverino, spiazzato. Non sapeva più neanche lui che cosa dire, no? Ha detto, beh, certo che it's a good point, no? Cioè, dice, non hai tutti i torti, avere detto. Questo per dire che, a volte, ecco, no? Le situazioni, un altro degli emoti, oltre che pensare è gratis, che è una grande verità, è anche che spesso si dice che le cose sono strane. Ma rispetto a che cosa? Perché poi, alla fine, no? La stranezza di un carcere, pensate, attraverso tutta una serie di cose siamo riusciti a far aprire una panetteria a questi ragazzi. Adesso si fanno il pane, lo vendono alle menze a Milano, fanno i panettoni, fanno le colombe. Dentro un posto che ha le sbarre, e che in quel momento lì per loro le sbarre non ce le ha più. Perché stanno facendo una cosa che vendono, finalmente si sentono utili. Ed è una cosa, no? A volte si dice, questa cosa è strana, non la capisco. Ecco, forse non stiamo facendo abbastanza sforzi. Non so se è una mia deformazione professionale, perché io gli sforzi li devo fare costantemente per capire la gente tutti i giorni. Però è così. Se noi anche pensassimo un pochino di più, no? Lo stiamo capendo veramente noi questo altro, no? Che spesso ci fa paura, così tanta paura adesso, poi, per esempio, con tutta questa violenza che pare che sia così pervasiva, eccetera. Ma li capiamo davvero gli altri? Ecco, se forse cominciassimo a pensare che magari gli strani siamo un po' noi, non sempre e solo gli altri che sono strani, anche lì forse si riuscirebbe a fare delle cose in più. E in questo, ecco, mi sta dispiacere che non ci siano i giornali. Io quando vado in giro con gli autori, adesso Mondadori sta riprendendo questa bellissima abitudine. Noi anni fa, con gli autori stranieri, ma anche con molti italiani, giravamo per le scuole. Ed era bellissimo, bellissimo, perché i ragazzi a scuola sono molto aperti, poi veramente ti regalano un sacco di cose. E soprattutto, se vogliamo vedere dal punto di vista egoistico di mercato, tu ti tiri su dei clienti, no? Perché se comincia a insegnare a leggere a un ragazzino di 10 anni, 11 anni, 14, 15, è molto probabile che a 30 continuerà a leggere i libri. Così come continuerà a suonare, continuerà a scrivere, continuerà a fare sport, no? Che è altrettanto interessante. Io sono anche molto ottimista su questo, perché spesso e volentieri ci sono i cicli, ma anche i cicli contrari. Adesso sembra che non ci sia più una partecipazione di una certa fascia di tale cose. Secondo me ritorna, perché è come se una cosa uscisse dalla finestra per entrare dalla porta, uscisse dalla porta. Cioè, dipende sempre dalla nostra abilità di riuscire a presentare le cose. Io spesso lo dico anche in televisione, quando mi chiedono, eccetera, perché noi poi viviamo con questo delirio della audience, no? Che c'è la audience, ma chi è la audience? Io non sono mai andato a cena con la audience, cioè, siamo noi alla fine, non... Però, certo, finché allarai c'è il divieto assoluto di avere spettatori al di sotto dei 18 anni, gli adolescenti non vendono, non possono venire. Se poi non dai uno spazio nel corso di un programma televisivo a una certa fascia di età, è chiaro che quello che piace in generale a una persona di 70 anni può anche non essere immediatamente comprensibile. Anche se io ho fatto degli esperimenti, io quando ho insegnato comunicazione all'università, un bel giorno, ho preso i miei elevi e li ho portati all'Opera di Roma a vedere una cosa che era assolutamente scandalosa, lo schiaccianoce di Tchaikovsky. Non solo musica classica, ma anche dal letto, che in genere è proprio dei bravati, dal letto, non se lo guarda nessuno. Beh, alla fine di questa meravigliosa trasposizione di Tchaikovsky, c'era la gente affascinata che mi ha detto, però non avrei mai pensato che una cosa di questo genere potesse colpirmi. Allora, è anche un po' un amo che io vi lancio. Provate a fare, almeno una volta al mese, una cosa che non avreste mai fatto, non avreste mai voluto fare, non volete fare. Perché poi c'è anche questo, questo è anche un libro che va un po' controcorrente, nel senso che io devo continuamente a volte andare contro la mia volontà. Perché io certe volte, un po' per l'esperienza, un po' perché ho cambiato tanti clienti, sono come un pilota di un aereo, che vede il vuoto d'aria, no, che sta arrivando, lo vedi, lo vedi, lo vedi, dici, adesso ci caschiamo dentro, giriamo un po' a destra, giriamo un po' a sinistra, andiamo sopra, andiamo sotto, no, pluf, in pieno. No, e devi stare zitto, cioè, certe volte la vita mi ha anche insegnato che devi lasciare che la gente caschi dentro il vuoto d'aria, per poi cercare di fare un passo avanti. Però, questo sì, ecco, cioè, io vorrei proprio, mi auguro, questo libro l'ho scritto anche per i miei studenti, perché, quando appunto insegnavo, perché è anche una serie di domande ricorrenti sulla comunicazione. Infatti ci sono i capitoli che sono più amedotici, seguiti da un intervallo che è un pochino più tecnico, diciamo, no, è un pochino più dove io ti spiego come ho risolto certi problemi di comunicazione, perché io poi alla fine di questo mi occupo. E io, secondo me, ho anche tantissimo di psicologia, nel senso che conoscere le persone, doverle tradurre, tutto un lavoro preparato, non è una voce alta, tradurre tutte queste persone le più disparate, doverle immediatamente entrare nel mood di queste persone, riuscire a capire come la pensano, per tutti i tempi, e avere una conoscenza abbastanza veloce anche. Io parlo soprattutto se, su certe trasmissioni, devo magari l'interprete lo conosci quattro ore prima, o tre ore prima. Qual è il lavoro preparatorio? Qual è il lavoro preparatorio?